Alexa, come stai? Sto bene, grazie. Trovo divertente che, in tutto il mondo, il primo sabato di aprile sia la giornata mondiale della lotta con i cuscini. Tutti ai posti di combattimento. Alexa, ma oggi è lunedì? Sì. Tu hai detto che è sabato, invece è lunedì. Alexa, ci sei? Sì, ci suono sempre quando sento la parola di attivazione. A me non sembra tanto, però. Non è certo per questo che Apple batte bosa, anche perché, diciamocelo francamente, Siri, l'assistente vocale di Apple, non è che sia sempre così intelligente e sveglia. Però, in una sfida che vedremo tra poco, nella sfida dedicata per andare a verificare questo prodotto, per andare a testarne, a sentirne le performance, Apple batte Bose. C'è un però. Infatti, il titolo è forte, lo so, ma c'è un però. C'è un però perché quel però è costituito da tutta una serie di differenze tra questi due prodotti che, vi assicuro, vi faranno anche cambiare idea sia su Bose che su Apple, perché la chiusezza del mondo Apple, questa voglia da parte di Apple, questo credo nel creare un ecosistema sempre più forte, sempre più, come posso dire, avvolgente per l'utente, per tutta una serie di altri utenti, è invece qualcosa di incredibilmente limitante, limitativo, al massimo, e molti non scelgono Apple per questo. E questo esempio, quindi questo test, questo video di oggi, con il prodotto che andremo a vedere, l'Home Speaker 500, potrebbe proprio essere un caso per il quale potrebbe valer la pena magari scendere un pochino di qualità audio e invece preferire un sistema più versatile, open e pronto ad accogliere altri prodotti di altri brand non selezionati e scelti certificati da Apple. Quindi, benvenuti in questa video confronto review unboxing dedicata a Bose. Quando si parla di qualità audio, quando si parla di cuffie over-ear, di sistemi Dolby Surround, di speaker, io penso sempre a Bose. Bose per me è il punto di riferimento, perché con prodotti qualitativamente elevati, Bose riesce, è vero sì, con un investimento anche a volte notevole, a dare però all'utente un articolo, una cuffia, come in questo caso, con delle tecnologie, con una qualità davvero notevole. L'espressione dell'audio è qualcosa di pazzesco. Questo articolo, che ho recensito tra l'altro due volte sul canale, sia la versione 1 che la versione 2, che sostanzialmente non è che abbiano grandi differenze, ma questo è per dirvi quanto io creda in questo marchio, questo video non è sponsorizzato, e quanto io poi sia felice di poter utilizzare questo articolo e di portarmelo sempre dietro da ogni viaggio. La tecnologia di noise cancelling e la cancellazione del rumore delle QC35, qualcosa di unico. Tra l'altro erano anche in offerta, quindi vi invito a seguirmi poi su Telegram per scoprire le promo, erano ad un ottimo prezzo. Questo perché ve l'ho raccontato? Perché oggi andremo a sfidare il gigante, sfidare questo punto di riferimento che per molti nel mondo audio è proprio Bose, e lo andremo a sfidare con un brand che è nuovo di questo settore, perché al di là delle cuffiette, al di là del marchio Beats che è stato assorbito di recente, non è certo il re o la regina del mondo home speaker, no? Anche perché ha un unico prodotto che è stato tra l'altro presentato due anni fa e quindi assolutamente una novellina, via. Questo è Bose Home Speaker 500, la versione di speaker per la casa by Bose. E come potete vedere, salta all'occhio subito un display che per tanti concorrenti è qualcosa di assolutamente nuovo. Questo display è innovativo perché permette all'utente di avere accesso visivo ai contenuti che si stanno ascoltando, abbiamo modo di visualizzare l'album, la copertina, il nome della canzone e l'artista e abbiamo modo di interagire, quindi oltre che con la voce, con l'assistente vocale di cui è dotato Amazon Alexa, abbiamo anche modo, con i tasti presenti, e sono diversi, di interagire quindi con Home Speaker 500 e avere un riscontro visivo oltre che un feedback vocale. Questo speaker è disponibile in due colorazioni, Triple Black, che è grigio siderale, e Lux Silver, che è questa colorazione qua. La struttura è in alluminio, è molto robusto come prodotto. Nella parte inferiore, dove c'è la banda forata, che tra l'altro avvolge tutto lo speaker, risiedono i due altoparlanti, sinistra e destra. È uno speaker stereo. Sulla parte invece superiore abbiamo un'altra fascetta forata che ripercorre l'ovale. Qui ci sono ben otto microfoni, che permetteranno all'utente di interagire con Alexa anche durante la riproduzione di musica. L'Home Speaker 500 è dotato di Wi-Fi, Bluetooth, ha i comandi, oltre che vocali, anche espressi in modo fisico, tra l'altro con sei preset, che potremo andarci a personalizzare in base alle stazioni preferite, in base alla playlist. E poi abbiamo un'importante integrazione con l'applicazione Bose Music, che ci permette di accedere a Spotify, a Deezer, a TuneLin. Abbiamo poi ovviamente anche Amazon Unlimited, qualora l'avessimo attivato. Vi lascio un link in descrizione qualora foste utenti nuovi Amazon, perché potrete creare per 30 giorni un account gratuito Amazon Prime e avrete anche modo di usufruire di 2 milioni di canzoni gratuitamente con Amazon Prime Music. La versione Unlimited è quella a pagamento, che ha un canone a parte, la trovate sempre in descrizione, e dà modo all'utente di riprodurre il catalogo completo, integrale, di più di 50 milioni di brani, anche tramite questo home speaker. Quali sono le differenze sostanziali tra questi due prodotti? Al di là dell'aspetto visivo, chiaramente la differenza sta nella costruzione. Abbiamo una struttura in alluminio per Bose e per Apple, abbiamo una struttura totalmente diversa, morbida al tatto, che è stata pensata con un'idea costruttiva, ingegneristica, proprio totalmente diversa. Infatti abbiamo ben sette sistemi di altoparlanti che vanno a percorrere tutta la circonferenza dell'home pod e che sostanzialmente si attivano con un algoritmo speciale in base al rimbalzo del suono e in base poi alla posizione dell'home pod, vanno a analizzare sostanzialmente quali sono le vie di uscita dell'home pod per andare a riprodurre la musica. Mentre l'home speaker di Bose è stato pensato con due altoparlanti, uno per riprodurre i suoni di sinistra e l'altro per riprodurre i suoni di destra. L'effetto stereo considerata la costruzione dei due device può essere percepito in modo differente, ma non è questo il punto, perché il motivo per il quale Apple questa volta, questa volta, batte Bose è proprio per la qualità sonora. Qui abbiamo una sostanziale differenza a livello di immersione, a livello di sensazione di suono pieno, di suono ricco di dettagli, di suono avvolgente. Il suono emesso dal Bosom Speaker 500 è un suono più freddo, più acuto, con meno bassi, con un suono meno amalgamato rispetto al suono emesso dall'home pod. La differenza è davvero notevole e ora la sentirete per bene. La potenza del suono invece è tutta a favore di Bose, i decibel proprio che sono in grado di emanare, i due device sono totalmente differenti. Infatti Bose suona molto più forte e andando proprio ad alzare al massimo il volume è qualcosa di incredibile quanto sia alto, quanto suoni alto questo speaker 500. Infatti ora entriamo nei però, quei però che vi avevo anticipato prima perché è vero sì, a livello qualitativo, a livello audio Apple è migliore, questo home pod suona meglio, però a livello di libertà Bose è veramente la regina o il re in questa sfida. Uno dei grandi vantaggi dello speaker 500 è per esempio quello di essere dotato di una porta AUX, di un ingresso AUX al quale noi potremo connettere per esempio il nostro televisore oppure qualsiasi altro device o semplicemente il nostro computer o ancora uno strumento che non è dotato di Bluetooth. L'altra grande differenza è la presenza del display che in alcune situazioni è d'aiuto, mentre sull'home pod bisogna sempre interagire con Siri. E qui c'è un altro limite perché Siri sia su HomePod che sull'Apple TV non è disponibile in italiano, mentre su Bose OnSpeaker abbiamo l'italiano grazie ad Amazon Alexa. Proprio grazie ad Amazon Alexa abbiamo modo di sfruttare al meglio le integrazioni con Spotify, le integrazioni attivabili tramite l'applicazione sviluppata ad hoc da Bose per questo speaker e che permette di andarci a collegare tutta una serie di servizi, cosa che invece l'HomePod assolutamente non fa perché è vincolato sul mondo Apple e quindi bloccato su Apple Music. L'unico modo per poter utilizzare l'HomePod con Spotify, YouTube Music, Deezer, TuneIn, eccetera, sarà quello di andarci a collegare uno smartphone tramite la tecnologia AirPlay e di andare a riprodurre quindi dallo smartphone i suoni, la musica che vorremmo andare a ascoltare. Mentre invece su Bose è tutto integrato, è molto più easy, è molto più accessibile. Oltre al design, alle differenze costruttive e funzionali, un altro degli aspetti che mi piace sempre portare nelle video review e ancora di più nei confronti è l'unboxing experience, l'esperienza nell'andare a scartare il prodotto. Il packaging è il biglietto da visita dei nostri prodotti e l'immagine che l'azienda dà del suo prodotto ancora prima di essere acquistato, scartato e messo in opera. Quindi è sempre più importante riuscire a rendere il packaging bello, accattivante. Apple ha una storia dietro questo, ma anche Bose se l'è sempre cavata alla grande. Infatti abbiamo due ottimi packaging. Per quanto riguarda l'HomePod abbiamo una scatola che ha un coperchio da estrarre e poi abbiamo sotto all'HomePod nascosto il cavo avvolto perfettamente che deve essere ovviamente srotolato e poi collegato alla presa di corrente. L'HomePod ha una sola connessione, quella della corrente. Cioè non ha bisogno di altro se non di alimentazione. Non abbiamo prese AUX, non abbiamo connessioni extra al di là di quelle Wi-Fi e Bluetooth. Il setup dell'HomePod è velocissimo. Una volta avvicinato un dispositivo iOS che sia un iPhone o un iPad abbiamo solo che da seguire gli step che ci vengono proposti nello schermo del nostro device e sostanzialmente in pochi tapp abbiamo poi concluso e fatto la configurazione e siamo poi pronti per utilizzare HomePod. HomePod che può essere aggiornato dall'applicazione Home mentre per quanto riguarda On Speaker quindi Bose abbiamo l'applicazione Bose Music. Su HomePod quindi non abbiamo connessioni extra e non abbiamo neanche un pannello di controllo una sorta di elenco di comandi non abbiamo niente se non un tondino un cerchio attraverso il quale noi avremo modo cliccandoci premendoci facendo i doppi tapp e poi vedremo nella review dettagliata cosa si potrà andare a fare con HomePod avremo modo insomma con quella superficie di interagire con lui. Come feedback visivo abbiamo un'animazione che appare quando noi chiamiamo Siri. il packaging di Bose è forse più standard perché abbiamo una scatola di cartone classica con sportello bella robusta all'interno della quale troviamo ben imballato l'Home Speaker contenuto in un sacchetto di TNT rimosso il sacchetto rimosso poi il cavo dalla connessione non dovremo far altro che collegare il cavo al Bose e collegare poi l'estremità alla presa di corrente. Dopo qualche secondo saremmo già pronti per effettuare la nostra configurazione che prevede l'installazione della Bose Music App e l'avvicinamento poi del nostro device che sia iOS o Android con la connessione Bluetooth attiva all'Home Speaker. Una volta poi fatto il primo setup saremo praticamente pronti per iniziare a sentire la musica e nel mente potremo grazie all'applicazione accedere alle regolazioni a eventuali aggiornamenti firmware e a tutto ciò che ci permetterà di fare poi l'Home Speaker grazie alle varie integrazioni e supporti ai provider musicali. Lo so la scelta non è facile anche perché a livello di prezzo siamo veramente vicini c'è un'altra però importante differenza da considerare ovvero la garanzia HomePod non è disponibile in Italia è disponibile nel mondo anglosassone in alcuni paesi dell'Unione Europea ma non in Italia mentre invece Bose Home Speaker lo è e quindi la garanzia è attiva anche in Italia tra l'altro acquistare HomePod non è che sia proprio facile infatti in descrizione vi lascio alcuni link attraverso i quali avrete modo di raggiungere l'HomePod ma non è detto che sia disponibile dipenderà poi dai vari fornitori quanto saranno bravi a riuscire ad importarlo e poi a rivendolo in Italia la scelta ora è vostra quindi vi lascio con il sondaggio nella sezione schede e vi aspetto poi nei commenti in descrizione quale sarà per voi la cosa più importante avere la versatilità avere modo di utilizzare i vostri servizi i piani in abbonamento che magari avete con Spotify con Amazon con altri provider oppure quello che vi piace oltre al suono di questo trapano è Apple HomePod e di conseguenza la sua qualità audio e l'ecosistema Apple vi aspetto nei commenti e poi al prossimo video ciao a tutti sto trapano proprio adesso però proprio alla fine del video è uscito il trapano ciao a tutti